Io credo che quella sia uno di quei casi in quali le deroghe possono avere un senso, qui c'è una situazione di emergenza e di urgenza, le deroghe non sta finita per lì, ma credo che c'è una situazione di tale gravità anche dal punto di vista del traffico in una città, quella è un'arteria fondamentale, per cui io credo che in un paese in cui abbiamo utilizzato tanto le deroghe, lì non c'è più che non ci sia. Il problema è quello di evitare però le deroghe che poi permettano di fare altro, cioè le deroghe devono essere in un modo che sia compatibile con un minimo di trasparenza e anche con una concorrenza effettiva, non dimentichiamo che la concorrenza diventa anche la qualità, se partecipa a un soggetto non è un versicolo.